Adesso voglio presentare i nostri mail, forse qualcuno sa di chi sto parlando, abbiamo qui Salvatore Seda di Otta Cesius, non saranno le partecipate ma saranno ospite. Salvatore, come fare? Ciao a tutti! Come fare? È il mio nuovo motivo, si tratta un poco della mia avventura, però come fare? Ma che il suono è già sceso da qua? E allora? C'è tutto per voi? C'è tutto per voi? E non scherzo eh, rammento! Ma c'è tutto, dai! Ma ciò, vai! No, no, va bene qui! Questo, su! Questo no! Come no? Prova! Prova! Bravo! Come lo faccio! Come lo faccio! Come lo faccio! Come lo faccio! Giorno a tutti quanti di capone il mare Se la prossima volta non la potrò sapere Ognuno è stato oltre il mare Anche con i ragazzi a dove si sento a cantare Giorno a tutti quanti di capone il mare Giorno a tutti quanti di capone il mare Giorno a tutti quanti di capone il mare Ognuno è stato oltre il mare Il tuo nome del mare Mi potrà aiutare E' per salvatori e qui E' per salvatore e qui E' per salvatori e qui Grazie. 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 Grazie.